Il fritto misto è il piatto preferito di Marcello Lippi o Adriano Padatta. E la matriciana? L'oste romano Francesco Panella ospiterà personaggi famosi negli studi di Gambero Rosso Channel per raccontarci qual è il loro piatto preferito. A noi il compito di trovare lo chef che possa fare quel piatto come non lo hanno mai assaggiato. Ci sarà da divertirsi! Il mio piatto preferito, dal 6 febbraio ogni lunedì alle 21.30. Solo su Gambero Rosso Channel